E noi dobbiamo stringerci tutti intorno a queste persone, far sentire loro e chiunque si impegni per la ricerca della verità e la giustizia, così come i magistrati, le forze dell'ordine, quella parte sana della società civile che si espone con coraggio, con determinazione contro la criminalità, bene, a loro dobbiamo far sentire la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, il nostro affetto, la nostra riconoscenza. Grazie.